Alle Forze dell'Ordine che sono qui presenti, Forza Armata e Forze dell'Ordine, tutti i comuni, gli statisti, la Coppe Commercio, l'organizzazione dello Yachtman Festival e con la speranza che l'anno prossimo sia ancora più spettacolare di questo. La Coppe Commercio Grazie. Oh! Wow! Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.